Dopo nove ore di trattative è stato sottoscritto ieri sera il verbale di accordo per quanto riguarda l'avvio della procedura di mobilità per 29 dipendenti della TEAM, la municipalizzata del comune di Teramo, che si occupa della raccolta dei rifiuti. I licenziamenti dovevano scattare lo scorso 21 giugno e grazie al lavoro dei sindacati è stata trovata una soluzione per cercare di salvaguardare i posti di lavoro, un accordo che non lascia completamente soddisfatti i rappresentanti dei lavoratori che però hanno dovuto prendere atto della forte crisi aziendale. In sostanza l'accordo prevede che 25 dei 29 lavoratori in Esubero vengano ricollocati con tempistiche diverse, parte in TEAM, parte in altre aziende, tutti però con contratti part-time al 50%. Nel dettaglio sette lavoratori saranno riassorbiti subito nei servizi di igiene ambientale, nella cura del verde pubblico e nella pulizia dei locali aziendali. Entro il 31 dicembre 2017 quattro lavoratori tra quelli posti in mobilità senza incentivo confluiranno nella nuova società che si occuperà della gestione del centro raccolta dei rifiuti, mentre entro alla fine di quest'anno altri sei lavoratori saranno reimpiegati attraverso la ditta che gestirà il programmato servizio di call center. Nell'accordo poi sono stati previsti anche degli incentivi in caso di mancata opposizione al licenziamento. Per due lavoratori prossimi alla pensione ci sarà un assegno netto mensile di 300 euro fino al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre per gli altri 1000 euro lordi al mese per ogni anno di ansianità con un tetto massimo di 10.000 euro. In bilico restano gli otto lavoratori che attualmente si occupano della pulizia del tribunale di Teramo, la cui proroga il contratto scadrà a fine luglio e per i quali ci sarà un ulteriore incontro nei prossimi giorni e due lavoratori per i quali al momento non è stata trovata ricollocazione. Il tutto passerà al vaglio dell'assemblea dei lavoratori prevista per mercoledì 29 alle 19 30.